Con il mitico ormai per la festa del Cina e per tutta Roma Istituto Rossellini, con il finanziamento dell'8x1000 della tavola valdese e in collaborazione con i servizi del Ministero della giustizia, servizio di dipendenza giustizia minorile e CPA, il centro di prima accoglienza e l'USM che sono gli uffici del servizio sociale per i minorenni e ha collaborato, ci ha ospitato in più occasioni, ringraziamo il centro di uno degli scatenati. Io non andrei molto avanti perché siamo qui per vedere questo corso realizzato alla fine di questo percorso, un corso appunto di formazione, diciamo così, di avvicinamento al mestiere di videomaker. Penso che sia una bellissima esperienza, spero naturalmente, ma sono convinto che potremo andare avanti con questa esperienza, anche allargandola e coinvolgendo molti più ragazzi e annuncio che durante l'anno abbiamo avuto la disponibilità delle officine Pasolini, che sono una scuola d'arte finanziata dalla regione Lazio, abbiamo avuto una disponibilità per poter insieme fare dei progetti per continuare anche un percorso con i ragazzi che hanno seguito questa iniziativa e speriamo anche con tanti altri ragazzi. Io partirei subito con il corto e poi qualche parola. Adesso, anche se secondo me questi lavori parlano da soli, però qualche parola di chi ha organizzato, ha lavorato e si è impegnato su questo prodotto che, ripeto ancora, spero veramente un'esperienza che vada avanti perché anche personalmente è molto molto coinvolgente e per me importante. Adesso do la parola a Giorgia Prosperi dell'Arci. È una grande emozione e soddisfazione per me e per Arci Solidarietà essere qui oggi in questa bellissima cornice della festa del cinema per presentare la seconda edizione di Io mi riprendo. È un progetto al quale noi siamo molto legati perché fin dalla sua nascita ci ha messo di fronte a una sfida molto importante che è quella di realizzare dei percorsi di inclusione sociale attraverso l'avvicinamento al mondo del cinema e dell'audiovisivo. Noi riteniamo che il cinema, per il grande potenziale comunicativo che esprime e che possiede, sia uno strumento utilissimo, in particolare per le nuove generazioni, perché permette di favorire la crescita di una lettura critica del presente e anche lo sviluppo del gusto del bello che a volte molto spesso è carente. Per questo diciamo che siamo molto contenti di essere qua e di vedere un prodotto che, come ha detto Stefano, parla da solo e che ha richiesto un impegno di molti mesi che sono stati a tratti molto belli, a tratti anche complessi, difficili, ma che comunque ci hanno dimostrato che questa è la sfida di cui parlavo prima, è possibile vincerla. Grazie Giorgia. Adesso do la parola alla dottoressa Claudia Crudele dell'USM, dei servizi sociali per i minorenni. Buongiorno, rappresento l'ufficio, ma meglio di me anche altri colleghi che adesso interverranno. In realtà abbiamo portato dei ragazzi messi alla prova, proprio per accostarci a questo mondo che è il cinema e comunque che offre altri punti di vista. È uno spazio nuovo, uno spazio interessante e devo dire che colpisce tantissimo, dà delle emozioni non indifferenti e apre ad altri contesti. Quindi io, come dire, anche la partecipazione di ragazzi che sono qui oggi in messa alla prova, che non hanno partecipato al progetto, non hanno preso parte, hanno comunque avuto l'opportunità di avere questo impatto emotivo e anche come punto di vista altro. Quindi noi ringraziamo tantissimo e magari può essere, come dire, la via di lancio per un futuro progetto. Quindi ringraziamo anche i colleghi che hanno partecipato e lascio la parola ai prossimi. Grazie Stefano. Sì, io volevo portare il saluto della Chiesa Valdese che è una storica chiesa protestante italiana che ha deciso di devolvere le quote dell'otto per mille che riceve, che tutte le confessioni religiose che hanno un'intesa con lo Stato italiano ricevono una quota, diciamo, delle tasse che si chiama otto per mille, di quelli che sottoscrivono per loro. Ha deciso di devolverle appunto a progetti sociali in Italia e all'estero, che sono circa mille. Quindi questo, diciamo, è uno dei mille circa progetti che noi, come dire, sosteniamo annualmente e appunto voglio ringraziare per questo invito e voglio dire a tutti che appunto noi ci siamo per chi ha il coraggio di portare avanti dei progetti. Per noi questa è una grande occasione perché non tutti conoscono il centro di prima accoglienza ma è il luogo dove i ragazzi tra i 14 e i 18 anni che commettono reati arrivano ammanettati. Quindi si parte da quel momento per poi iniziare un percorso di ripresa. Quindi questo percorso lo facciamo insieme anche agli assistenti sociali e facciamo delle proposte. Questa è stata una proposta importantissima perché un ragazzo che arriva nelle condizioni in cui può, immaginate, appena pescato, arrestato con le mani nel sacco mentre commette un reato, non pensa a volte di meritare di poter entrare in contatto con realtà anche importanti, anche sofisticate come quella del cinema. Quindi questo progetto è stato un progetto particolarissimo, molto importante, ha avuto una buona adesione, ci sono stati anche molti problemi per portarlo avanti perché comunque si lavora con gruppi di ragazzi particolari che è difficile anche tenere insieme. C'è stato comunque un entusiasmo particolare con i ragazzi che ci hanno seguito fino alla fine. La cosa più bella è che questo progetto, come avrete visto, gli ha dato la possibilità di dire due cose. Uno, chi sono? E due, che cosa desiderano? Gli ha dato la possibilità di provare a pensare a queste cose perché qua vedo tanti adolescenti e in adolescenza chiedere chi sei è una domanda un po' difficile, particolare, è difficile rispondere. In particolare per questo genere di ragazzi, quindi è stato un progetto che dal punto di vista educativo li ha aiutati molto a pensare e soprattutto gli ha dato la possibilità di desiderare qualcosa. Sicuramente tantissima emozione e devo dire che è la seconda anno che lo facciamo e anche quest'anno mi ha sorpreso tantissimo e soprattutto scoprire i ragazzi che partecipano. Oggi ce ne sono dei sei che avete visto, ce ne sono purtroppo solo due che in realtà però vorrei far venire qui, vieni, 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 dai. Lei è la mia attrice, lui è l'altro attore. Dove vai? Sei già seduto e la sua caratteristica per tutto il corso era quello di cercare una sedia per stare seduti. Il bello di questo progetto è il fatto che ci siano dei ragazzi che si incontrano, molto lontani a volte tra di loro però alla fine esce fuori qualcosa di bello, anche perché comunque sono comunità diverse ma ancora più bello è il fatto che ci sono gli studenti della mia scuola che incontrano un altro gruppo di ragazzi e infatti vorrei far venire anche i ragazzi che hanno fatto le riprese che sono qui davanti a me, vieni, dai. I due Alessi, i due Alessi, Joy e Marika che sta qua. Quindi ogni volta è una grossa prova perché non è facile riprendere e girare tutti insieme, farvi parlare, aprirsi. Ok, questo è un bellissimo gruppo, le immagini parlano, ci sarebbero molte, purtroppo questa è una sintesi di un lavoro molto più lungo perché sono solo un quarto d'ora messo insieme, ci sono delle immagini, in realtà avrebbe fuori un film, non un cortometraggio, però diciamo le nostre possibilità per ora sono queste e speriamo nel prossimo anno di fare un vero e proprio film, quindi un qualcosa di più lungo. E poi, infine, un grazie grazie ad Alessia Cervini che mi ha dato una grande mano nella che sta... Grazie a tutti, l'augurio, ma io posso dire che per me è una certezza, continuiamo con questo progetto, continuiamo con attività perché ricordiamoci che questo progetto, il primo anno in poco più di un mese, quest'anno è partito anche molto prima, se non sbaglio nel mese di maggio, dicevo di disponibilità anche di enti, istituzioni che vogliono contribuire a questo lavoro, quindi sono convinto che nel passaggio di tutto il 2020 ci ritroveremo alla quindicesima edizione del Festival del Cima insieme e forse vedremo un medio o un lungometraggio. Grazie a tutti per aver partecipato.